Ma i circoli fotografici, nell'era di internet e dei social network, hanno ancora senso? Cari amici, ben arrivati a questa nuova riflessione fotografica nella quale proviamo a ragionare sui circoli fotografici, insomma sui luoghi che per anni sono stati alla base di fatto della cultura fotografica, quantomeno italiana. E soprattutto proviamo a ragionare se e come rendere il circolo fotografico un'opportunità reale di crescita. Però come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, canale nel quale ogni settimana pubblichiamo veramente tanto contenuto, circa 3 video a settimana. Ti ricordo anche di iscriverti e spuntare la campanellina, in questo modo tutti i vari video che verranno pubblicati, insomma, verranno comunicati da YouTube. Ti invito anche ad andare in descrizione a questo video e a visitare le pagine di presentazione dei nostri corsi online. Ci sono anche dei video di presentazione nei quali ti spieghiamo che corsi fotografici facciamo e perché sono un'opportunità di crescita per te. Il corso dallo scatto alla stampa Fine Art, il corso dedicato al bianco e nero e il corso dedicato alla composizione fotografica. Ogni video corso sono circa 10 ore di video lezioni, corsi che puoi tranquillamente scaricare sul tuo computer e guardarli quando vuoi, dove vuoi, senza limiti di tempo. Perché, come dico sempre, il migliore investimento è su se stessi. Allora, volevo fare questa riflessione fotografica già da un po' di tempo, ragazzi, perché sono stato, intanto, quando iniziai a fotografare, insomma, tanti tanti anni fa, ho frequentato parecchi circoli fotografici, insomma, veramente ho avuto molte esperienze di questo tipo, a un certo punto sono diventato anche presidente di un circolo fotografico e poi a un certo punto del mio percorso di crescita, visto anche gli impegni professionali, decisi, insomma, di interrompere la frequentazione come partecipante, diciamo, ai circoli fotografici. Ancora oggi frequento molti circoli, più che altro da docente, quindi mi invitano per tenere dei corsi, appunto, legati alla stampa, al bianco e nero, alla composizione, insomma, altri tipi di attività didattiche, ma non frequento più astituamente qualche circolo fotografico. E francamente vorrei fare questa riflessione perché credo che oggi, più che mai, forse l'attività del circolo fotografico sia davvero importante, proprio tutto sul piano sociale e personale. Questo periodo di Covid che ha comportato molte attività in smart working per qualcuno, comunque sia a distanza, con videochiamate, eccetera, eccetera, insomma, secondo me ha fatto emergere sempre di più il bisogno di ritrovare il contatto tra le persone. Diverse persone che frequentano circoli, anche conosco dei presidenti, insomma, mi hanno detto che si fa fatica, dopo i vari periodi di lockdown, a far ritornare alla normalità e alla convivialità le persone, non tanto per paura di aggregarsi, perché, insomma, lo vedete, basta andare in uno centro commerciale, in centro città e vedete veramente tantissime persone, quanto per il fatto che un po' le persone si sono abituate a questi rapporti un po' arate e soprattutto a distanza, quindi magari virtuali. Comunque, fatto sta, le persone fanno fatica a ritrovare il senso dell'aggregazione e della condivisione vera, reale, fisica. Per me, invece, credo che sia qualcosa di veramente importante, soprattutto sul piano fotografico, perché il circolo fotografico è una realtà analogica, concedetemi questo termine, non deve essere digitale, o meglio, può essere anche digitale, ma la forza vera è essere reale, analogico, poter anche discutere di fotografia non soltanto tramite un monitor, con tutti i problemi, tra l'altro, anche di visualizzazione, di resa dell'immagine, del contrasto, delle velocità colori, quindi c'è un problema anche concreto, tangibile, ma dietro una stampa vi posso garantire che ogni volta che ho tenuto i corsi, ad esempio, te lo scatta la stampa dove faccio vedere parecchie immagini e dove si analizzano magari le stampe dei partecipanti, stare intorno a un tavolo, discutere intorno a una stampa, si crea un'alchimia veramente magica, fantastica, cosa che è assolutamente impossibile da ricreare online. Per amore del cielo, l'online ha dei vantaggi, insomma, vedete che sfruttiamo molto, insomma, anche noi i social, la condivisione a distanza, però oggettivamente potersi vedere, comunicare intorno anche a un supporto fisico, ha una forza educativa, didattica, sociale, personale, insomma, completamente diversa. Il circolo poi è anche un'occasione, quindi non solo per vedere persone, cosa che a mio giudizio, ripeto, oggi più che mai è veramente importante, è anche un'occasione per crescere fotograficamente, fare dei corsi di fotografia. Tantissime persone, magari anche tu hai fatto all'inizio un corso di fotografia base in un circolo fotografico, sfruttando soprattutto i prezzi piuttosto democratici in molti casi. È l'occasione per avere anche dei feedback su dei propri lavori, il classico portfolio che tu porti, più o meno saltuariamente, in una serata del circolo e questo portfolio viene giudicato, viene commentato dai partecipanti alla serata. E quindi può essere utile avere un feedback, soprattutto quando uno ha l'inizio del proprio percorso fotografico. È utile anche il circolo fotografico per sviluppare progetti, quindi collettive, progetti a più mani, quindi il classico progetto magari di fine anno in cui si espone anche al pubblico un proprio portfolio che è, come dire, legato al lavoro di altri, oppure ogni singolo espone il proprio lavoro e quindi in qualche modo si espone al pubblico. Quindi è una forma di crescita anche questa. Ora voi direte, beh, allora a sto punto il circolo fotografico ha sicuramente senso, è tutto bello, no? Tutto perfetto. In realtà, vi devo dire la verità, non è così. Perché non è così? Perché per la mia esperienza la qualità di un circolo fotografico dipende dalla qualità delle persone che fanno parte del circolo fotografico stesso. Se la qualità delle persone è elevata non solo sul piano fotografico, quindi tecnico, ma anche culturale e anche personale, allora il circolo diventa veramente un grandissimo, un potentissimo catalizzatore per crescere e migliorarsi. Molto spesso, purtroppo, non è così. Il circolo fotografico è sicuramente utile, è spesso utile all'inizio del proprio percorso fotografico, di crescita fotografica, quindi per apprendere la tecnica base, ma purtroppo molto spesso diventa un tappo per le persone più curiose, più vogliose anche di imparare, anche più aperte mentalmente. Ecco, questo tipo di persone in molti casi, non sto dicendo che è sempre così, ma in molti casi all'interno dei circoli fotografici trovano realmente un tappo e spesso il tappo sono proprio i senatori, le persone un pochino più, non dico più anziane perché non è legata solamente all'età, ma semplicemente che hanno un peso maggiore all'interno del circolo e che sostanzialmente continuano a giudicare tutto ciò che gli viene proposto semplicemente con i propri paradigmi mentali, spesso vecchi o con cui sia piuttosto chiusi. Poi nei circoli fotografici, ahimè, si professa molto, si porta avanti molto la cultura del risparmio, cioè non si porta avanti la cultura dell'eccellenza, di fare le cose fatte a modo, ma la cultura del risparmio. Io credo, ragazzi, che il problema di fondo dei circoli fotografici non sia tanto il fatto che oggi le persone si siano abituate a socializzare tramite social network, il che è vero, è purtroppo una realtà vera e drammatica sotto alcuni punti di vista, quindi si è perso un po', ripeto, l'aspetto analogico delle relazioni tra le persone. Credo però che molto spesso a chi in qualche modo dirige il circolo culturale si dimentica che il circolo, appunto, il circolo fotografico è un'attività culturale, cioè deve produrre cultura e questo secondo me è un elemento determinante per il successo di un circolo. Allora, cosa intendo per cultura? Cosa intendo che il circolo deve essere un ambiente che accresce la cultura delle persone? Prima di tutto perché il circolo può essere una grandissima occasione per fare formazione di qualità. Il più delle volte, come dicevo poco fa, la formazione è data a uno del circolo, magari un pochino più capace, magari un pochino più competente, o con un pochino più di esperienza, ma viene data a lui semplicemente per risparmiare, no? Perché così si risparmia un po' di soldini, non si spendono troppi soldi, non si chiedono soldi ai partecipanti del circolo e quindi, insomma, sono tutti felici e contenti. Peccato che la formazione, più delle volte, è una formazione, non dico mediocre, in alcuni casi è veramente mediocre, ma di certo non è una formazione che permette anche a coloro che hanno un livello, come dire, culturale, fotografico un po' superiore di evolversi e di crescere. E se le persone che sono a un livello un po' più superiore, che hanno più esperienza, che hanno un background maggiore, come dire, o hanno idee anche più innovative, non vengono valorizzate e non trovano stimoli all'interno del circolo, ovviamente se ne vanno e abbandonano il circolo. E quindi torniamo al discorso, all'assunto di base, che la qualità del circolo dipende dalla qualità delle persone. Se il circolo non è un ambiente, non è un circolo virtuoso, ok, ma è vizioso, utilizziamo questo esempio, ovviamente le persone più, come dire, energeticamente positive abbandonano il circolo e il circolo piano piano si affossa e rimangono all'interno del circolo quelle decine di persone che sono magari un pochino più affezionate, un pochino più abitudinari, eccetera, ma che non riescono a portare vero valore aggiunto al circolo fotografico. Invece investire in formazione con dei formatori di qualità, professionisti veri, insomma di qualità, formatori di qualità su diversi aspetti della fotografia, non solo la post-produzione, ma anche altre attività culturali, lo studio degli autori, insomma ci sono veramente tante attività formative importanti, la cultura della stampa, la maggior parte delle persone che frequentano il circolo non sa neanche che cos'è un profilo colore, è semplicemente inaccettabile ragazzi, è inaccettabile, non sa che cos'è la gestione del colore, ha veramente competenze, tolto il diaframma, profondità di campo, ha competenze davvero medio-basse anche dopo 5, 6, 10 anni che frequenta un circolo, questa cosa è grave, è segno che il circolo non produce cultura, non fa evolvere le persone che ne fanno parte, per cui è veramente importante investire in formazione. E perché il circolo è un'occasione? Perché il circolo ti permette anche di ripartire una spesa che altrimenti sarebbe troppo importante, cioè se per fare un corso con un determinato docente di qualità e ci vogliono 1000 euro, è un conto affrontare la spesa singolarmente e partecipare al corso del docente appunto come singolo, è un conto che il circolo contatta il docente, il docente vuole 1000 euro, 1500 euro, quello che è, ma quelle 1500 euro vengono ridistribuite per 20 persone, 30 persone e la cifra diventa molto più abbordabile, ma la cosa importante è che non si è chiamato una persona qualunque o di livello non particolarmente significativo, si è chiamato un docente veramente bravo su quell'aspetto che ci interessa e che può dare veramente del contenuto e far crescere la cultura non solo del principiante, che comunque getta le basi su un terreno veramente fertile e positivo, ma fa crescere la cultura e dà nuovi stimoli anche al fotografo che si era un po' fermato, oppure che ha un livello alto e che ha voglia di crescere, voglia di imparare e se non lo trova in quel circolo ovviamente se ne va in altri circoli, oppure addirittura come spesso succede abbandona completamente il mondo dei circoli fotografici, quindi investire in formazione di qualità continuamente e costantemente è essenziale, è chiaro ragazzi perché per far questo occorre superare la mentalità del risparmio, che io personalmente odio totalmente, non perché sia uno spendacione, ma perché non ha senso, è una cultura che porta solo alla mediocrità, non porta da nessun'altra parte, porta solo alla mediocrità ragazzi. Risparmiare, io in che cosa lo vedo che c'è questa cultura? Lo si vede appunto nella formazione, nello spendere i soldi per chiamare un formatore di qualità, lo si vede quando si fanno ad esempio le collettive e si espongono alle stampe, c'è sempre la solita discussione, dove facciamo stampare e non è che si pongono il problema, la maggior parte delle persone dei circoli si pongono il problema, beh stampiamo in un posto di qualità eccetera, no, si pongono, beh troviamo quello che costa meno, questo è l'assunto base, dobbiamo spendere il meno possibile. E poi cosa succede? Che vedi delle stampe che fanno cagare, veramente cagare ragazzi, sono oscene, vedi dei bianchi e neri, su carte che non sono assurdamente pensate per il bianco e nero, magenta, verdi, veramente schifose. Questo tipo di mentalità uscite la fotografia e porta solo alla mediocrità, non porta a nient'altro. Prima di tutto perché si insegna, soprattutto a chi inizia a fotografare, che va bene, la stampa non è importante, cosa che dovrebbe essere comunque il mantra all'interno di qualsiasi circolo fotografico. Il circolo fotografico dovrebbe professare l'importanza della stampa fotografica. Chi non capisce questo ragazzi, cambiasse completamente hobby. Non dedicatevi alla fotografia, dedicatevi al video, dedicatevi a dell'altro, ma uno che veramente ama la fotografia deve necessariamente amare anche la stampa. Poi che stampi 100 foto, 1 foto, 20 foto, 1.000 foto, questo può essere soggettivo, ma quella foto, quelle 100 foto, quelle 1.000 foto devono essere stampe di qualità. Sono le vostre opere, sono il risultato di un vostro pensiero, sono il risultato di un vostro lavoro. Se voi non date valore alle vostre opere, non lo darà nessuno. Nessuno. È chiaro il concetto. Se voi non date valore alle vostre opere, scegliendo una stampa da 20 centesimi, un 20-30, 20 centesimi, 30 centesimi, perché così risparmiate, avete una stampa schifosissima, che dopo due ore è tutta ricciata perché ha preso umedità a go-go, perché è stata stampata, magari è stata attaccata su un cartoncino schifoso, anche lì per risparmiare, diventa tutto... Quante volte l'avete visto? Sono veramente delle oscenità. Voi siete un circolo fotografico, voi rappresentate la fotografia. Dovete essere una calamita, un magnete per chi là fuori è ancora interessato alla fotografia e vuole avvicinarsi a questo mondo. I circoli fotografici hanno una responsabilità enorme. Se uno non capisce questo, deve smettere di essere presidente di un circolo, di frequentare un circolo e cambiare aria, perché si fa solo del male alla fotografia. La fotografia continua ad abbassarsi perché non si investe sulla cultura, sulla qualità, sulle priorità. Quindi investire in formazioni di qualità, non solo tecnica, non solo post-produzione, non solo fare l'HDR, non solo fare l'astrofotografia, quelle stelline che si muovono, ma investire anche in cultura fotografica, cosa che non si fa praticamente mai. Quindi questa è una cosa veramente importante. Investire sulla stampa, sulla cultura della stampa, sulla gestione del colore, sul bianco e nero, sul concetto di fotografia anche fine art, cioè di portare a compimento una fotografia dal momento dello scatto alla stampa, secondo i criteri veramente allo stato dell'arte. Questi sono principi cardine che dovrebbero far parte di tutti i circoli. E poi ovviamente lavorare anche dei progetti di qualità, che sono espressione culturale. Io vedo delle collettive classiche di fine anno, il progetto è, il tema comune è, il colore rosso. Ragazzi, la smettiamo con queste cagate di progetti. Scusate la franchezza, ma vorrei che il canale, che questo canale fosse anche uno stimolo per riflettere sui comportamenti che abbiamo. Comportamenti che spesso e volentieri non fanno assolutamente bene né a se stessi né a la fotografia. Ma come si fa un circolo fotografico, che è un circolo culturale, ok? Che è presente in un territorio a fare un progetto collettivo sul colore rosso, che poi vedi delle schifezze assurde con il bianco e nero e solo l'enemento che interessa rosso, no? Perché sapete l'effetto dove c'è tutto il bianco e nero solo una parte è a colore. Che è una roba veramente kitsch all'ennesima potenza. Smettiamola con questa roba, ragazzi. Siamo un circolo fotografico, viviamo in un contesto, non so, vivete in Lunigiana, in Garfagnana, vivete in Molise, dove vi pare. Ma i progetti dovrebbero sempre essere testimonianza del vostro territorio, della cultura di appartenenza. Raccontate il vostro territorio. Una persona può raccontare, non so, i mestieri che stanno scomparendo. Un'altra persona può raccontare la movida, cioè come i ragazzi vivono oggi il territorio, la movida, si divertono. Un'altra persona può raccontare, non so, le attività sportive. Un'altra persona può raccontare il mondo associazionistico del territorio. Esistono 10.000 sfaccettature all'architettura. Raccontate il territorio. Questo deve essere il fine ultimo del circolo fotografico. Deve essere uno strumento a disposizione del territorio, della cultura del territorio, dell'assessorato, eccetera, per produrre testimonianza, per produrre valore storico. Questo è un concetto chiave. Non è il progetto sul rosso, sul giallo, sui tempi di scatto. Ma cos'è sta fregnaccia, ragazzi? Queste sono cose che vanno bene per un workshop, dove tu lavori su un tema, su un colore, sul tempo di scatto. Ok, in un workshop può avere senso, ma non che tu fai una collettiva su progetti che non hanno nessun valore culturale. Non ha senso. Non ha veramente senso. Non arricchisce il fotografo, non arricchisce il circolo, parlo culturalmente, e non arricchisce neanche il territorio. È solo mediocrità. Solo mediocrità che porta poi solo un risultato. Spendere 20 centesimi per una stampa 20-30, in bianco e nero, che fa cagare. Questo è l'iter. Se è così, ripeto, chiudete il circolo, smettete, perché siete un male per la fotografia. Scusate se sono molto franco, ma credo che sia importante dire anche certe cose. Invece, lavorare sulla cultura del proprio territorio. Chi è alle prime armi? È normale che non può, ovviamente, raccontare il mondo associazionistico del territorio. Come fa? Ma lì può essere interessante lavorare sotto forma di baddi. Cioè, una persona più esperta insieme alla persona meno esperta. Lavorano in coppia, dove quello meno esperto impara dalla persona più esperta. E quello più esperto ha la responsabilità di quello meno esperto e quindi è stimolato a fare ancora meglio. Questo è un modo di lavorare all'interno di un circolo. Questo innesca un circolo veramente virtuoso. Allora, lavoriamo in questo modo, investiamo in cultura. E vedrete che sarà anche molto facile, invece di criticare sempre l'assessorato alla cultura, che non vi caga, sarà molto più facile andare dall'assessorato alla cultura e dire, guardate, io ho questo progetto, vorrei raccontare questa cosa del territorio, oppure l'origine storica del mio territorio, oppure il paesaggio del mio territorio. Chissà, magari, se non trovate un celebre leso all'assessorato, magari, insomma, può nascere anche un catalogo, può nascere un documento che comunque è una testimonianza storica. Sono importanti questi approcci. Bisogna cambiare completamente mentalità, smetterla di investire in formazione mediocre, quindi cacciare anche qualcosa in più rispetto alla quota associativa per fare formazione di qualità. Questo fa crescere le persone da ogni punto di vista, tecnicamente, culturalmente, eccetera. Permette di creare progetti più virtuosi, migliori, più efficaci sul piano comunicativo, sul piano fotografico, e diventa veramente un circolo virtuoso. Un'altra opportunità del circolo su cui occorre investire è sempre la ripartizione delle spese. Ad esempio, per me, in ogni circolo ci dovrebbe essere una stampante fotografica di qualità, non una stampantina mediocre, ma una stampantina, una stampante fotografica di qualità, una 2, che stampa fino alla 2, un monitor fotografico e una sonda fotografica, in maniera tale che, se una persona non ha soldi, non ha spazio per potersi comprare questa attrezzatura, quando ha bisogno di stampare, ovviamente pagherà i consumabili, ma può rivolgersi al circolo. Allora il circolo diventa un servizio utile e non punta alla mediocrità, punta all'eccellenza, alla qualità, al risultato. Quindi, queste sono, secondo me, gli elementi, le condizioni fondamentali per crescere. E poi, ragazzi, quando si esamina il lavoro di qualcuno, soprattutto quando ha le prime armi, cerchiamo di apportare un feedback costruttivo. Cioè, ok, va bene far notare le cose che, insomma, non sono eccellenti, che non vanno bene, ma è anche importante dare un feedback positivo, dire cosa ha fatto bene, essere uno stimolo. Io nei circoli vedo gente frustrata dal lavoro, dalla moglie, non so, da chi, dalla suocera, da quello che è, e praticamente si sfoga col povero Cristo che ha avuto l'ardire e l'incoscienza di portare il lavoro in esposizione all'interno del circolo. e vedi la gente che si accanisce oppure giudica il lavoro semplicemente alla composizione delle foto con riga e squadra, cioè sostanzialmente con la regola dei terzi. La regola dei terzi, ragazzi, è utile, è importante conoscere, così è ancora meglio la regola aurea, ma dopodiché basta, cioè c'è un modo di vedere le fotografie, di analizzare le fotografie, di crescere culturalmente sul piano fotografico che è ben lungi dall'applicazione della regola dei terzi. E soprattutto non si può scartare un lavoro che infrange un po' certe regole perché le regole sono così e si va avanti con i peraocchi. Perché questo succede? Per il motivo per cui vi ho detto poco fa. Perché non si investe in formazione di qualità, non si fanno crescere le persone che veramente valgono, che hanno apertura, che hanno voglia di crescere, di imparare, non si fanno progetti in collettiva veramente di qualità, non si lavora sulla cultura dell'eccellenza, su creare un portfolio, un portfolio di qualità, creare delle stampe, stampe di qualità. Quindi più si lavora su risparmio, sulla mediagrità, su cerchiamo di spendere il meno possibile e poi il circolo si spegne come una candela. Poi chissà per quale motivo i soldi per il vinello, per il salame, per il prosciutto, per i gnocchetti, quello che vi pare a voi, c'è sempre. Ma d'altro canto l'Italia basta che si magna e siamo tutti contenti. Ragazzi, io la penso così, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Ciao ciao!